Buona mattinata a tutti, buon venerdì a tutti. Oggi cambiamo tema, no, tema no perché è sempre calcio, ma parliamo di un altro argomento che spizza in alto abbastanza, di cui io non mi sono mai occupato, però da adesso in poi probabilmente sarà un altro degli argomenti, oltre alle partite, alle epiloghi settimanali delle partite, parlerò anche di mercato quando ce ne sarà bisogno, ovviamente solo esclusivamente del Toro, mercato che si chiude ieri, si è chiuso ieri, con dei trasferimenti anche di tutto rispetto perché comunque togliendo Caramò che è andato al Montpellier e Radonic che è andato al Mallorca e Sopì che è andato a Montpellier, Zima è andato allo Slava Praga, Comunque ci siamo fatti un mercato abbastanza, queste sono le cessioni in prestito ovviamente, tra ieri e l'altro ieri sono arrivati a Torino Matteo Lovato dalla Salernitana, e poi Urus Kabic che sembra essere forte, Okereke dalla Cremonese e Adam Masina dall'Udinese. Okereke è un attaccante, è abbastanza forte, infatti non credo che prenderà il posto di Zapata se non ce ne fosse proprio bisogno, e Masina dovrebbero essere due difensori e un attaccante e un trequartista, quindi più o meno sono questi gli acquisti dell'ultimo minuto, questi giocatori sono abbastanza importanti ai fini del rinforzo della squadra, perché comunque andati via Caramò, Zima, Radonice e Sopì ce ne può fregare di meno, perché è l'unico proprio lì dentro che io l'ho visto una volta, mi è bastato, mi hanno fatto scendere veramente il latte alle ginocchia, quindi è bene che se ne sia andato, era arrivato a Torino sotto i migliori auspici, ma non ha concretizzato come avrebbe dovuto, Radonice a me sinceramente è dispiaciuto un po' che se ne è andato potrebbe anche tornare, perché col prestito se le cose dovessero andare non bene potrebbe anche ritornare a Torino, però vedremo e oltretutto Radonice aveva iniziato la stagione con tre gol all'attivo ed era il nostro punto di riferimento da davanti finché non è arrivato Zapata che è arrivato a quota 4, è anche vero che Zapata è un attaccante puro, Radonice è più mezzala, però aveva fatto bene e poi si è un po' perso perché comunque con i disguidi, con il suo carattere non propriamente malleabile, si è lasciato andare un po' a discorsi poco seri riguardante il suo rapporto con Mr. Juric, e che dire, adesso domenica appunto ci sarà la partita contro la Salernitana, ma ne abbiamo già parlato, questi nuovi innesti di Lovato, Okereke, Masina e Rabic, no Kabic, speriamo che portano bene, oltretutto per Lovato sarà la prima partita da ex, essendo questa la partita in cui Lovato sarà probabilmente già convocato da Mr. Juric, in quel di Torino, ci sono anche delle altre notizie che riguardano Buongiorno, che sembrava dovesse essere operato, invece fortunatamente nella sfiga starò via un mese, ma non deve essere operato, quindi benissimo, molto bene, e non si sa se per il conto a Salernitana ci saranno tutti gli effettivi, se Illic, io non mi sono informato, ma all'appello contro il Cagliari mancavano Illic, e Gigi e Radunic, e diciamo che alcuni anche di quelli che sono andati via mancavano contro il Cagliari, e adesso Ricci fortunatamente non ha niente, ne sono stata una botta, quindi dovrebbe essere presente contro la Salernitana domenica, e io il riepilogo lo farò domenica sera, quando tornerò dallo stadio, perché domenica sono presente, ma l'ho già detto nel riepilogo della partita contro il Cagliari, che abbiamo vinto, e detto questo volevo solo fare un piccolo appunto su questo nuovo, diciamo, questo nuovo discorso che ci sarà praticamente due volte l'anno, perché il gennaio è il primo giorno in cui ci sono i trasferimenti, le cessioni e le compravendite, e giugno, ma io penso che a giugno il Torino non faccia alcun movimento, se non proprio per necessità, anche perché comunque ha dato via quattro giocatori, ne ha presi altri quattro, e quindi io penso che per il momento sia abbastanza rinforzata, adesso bisogna vedere se i nuovi innesti si adatteranno al gioco di Iurice, che rispetto a quello della Salernitana, dell'Udinese, della Cremonese, e del del campionato in cui è arrivato Kabic, sicuramente è diverso, però magari con questi giorni di avvicinamento alla partita, magari Iurice riesce a metterli già subito, come dire, subito, farli entrare subito nell'ottica, che non sono più nelle loro squadre, ma sono al Toro. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, buon pomeriggio, buon fine settimana, e ci sentiamo poi per per la partita che ormai mancano due giorni, anzi un giorno e mezzo, la partita contro la Salernitana di domenica domenica 4 febbraio alle 12.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, a presto.